Invece a venire da un altro pianeta, un alieno tra noi, Morgan Astronauti. Un grande applauso a Morgan. Non si è perso un'edizione di Vesuvius Just Live Music? Anche lui è un musicista estroverso ed è un grande complimento, versatile. E soprattutto lui è uno che si compone la musica da solo, uno che si dà da fare, un'artista che appartiene ad un gruppo che si esibirà questa sera, gli Strip Kids, bravissimi, eccezionali. Però adesso in questa parentesi ci dimostrerà che cosa è capace di fare anche lui con la chitarra e con l'accompagnamento degli artisti che lo hanno preceduto, quindi Brian è il suo gruppo. Morgan, da quale pianeta vieni stasera? Ma stasera... Ma Marte suggerì? Il pianeta che luccica, il pianeta più luccicante che ci sia nell'universo, perché noi viviamo con la speranza, ok? Con la luce. Perciò la prima cosa che ci deve essere nell'universo è la luce, sennò sarebbe tutto buono, li trovi. Va bene, direttamente dal Sole, allora Morgan Astronauti e il suo gruppo momentaneo. Applausi! Siamo ricercati che hiciamo lazęneta! La musica... La musica non... Buonasera, Fran Russo alla chitarra, c'è poi Marco Russo alla batteria e Stefano Romano. Non si sente, non si sente la chitarra di Marcella. Quindi non si imba i titoli, magari non si imba i titoli. Non è che faccio il software. Basso un po' il volume, per favore. Passo un po' il volume, per favore. Ok. Grazie a tutti.